Davvero strana la giustizia sportiva di casa nostra riapre un'inchiesta che aveva già archiviato solo perché ora sullo stesso problema indaga con serietà anche la giustizia ordinaria la procura federale ai sensi dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva ha chiesto infatti la revocazione parziale della sentenza con quella corte federale d'appello aveva assolto nel maggio scorso la juventus e altri nove club nel processo relativo alle plus valenze di bilancio il perché della decisione alcune fonti sostengono che evidentemente la procura guidata da giuseppe chinè ha rinvenuto nella lettura dei documenti forniti dalla procura di torino nuovi elementi in grado di fare riaprire il caso quindi senza le indagini dei magistrati torinesi ancora una volta un'indagine della giustizia sportiva sarebbe finita tra luce e vino e l'elenco è lungo a partire dalle violazioni fatte dalla lazio di lotito in tema di tamponi e covid in piena pandemia la corte adesso avrà 30 giorni di tempo per convocare l'udienza in cui la procura chiederà nuove sanzioni non solo nei confronti della juve ma anche contro gli altri club coinvolti nel primo processo per presunte plus valenze fittizie generate nelle operazioni di mercato con il club bianconero il 17 maggio scorso i pilateschi giudici federali avevano assolto juventus napoli sampdoria genoa provercelli parma pisa empoli novare pescara le rimettono tutte sotto inchiesta tranne il napoli a cui non vengono contestate operazioni gonfiate con madama per ottenere la multiplatica il permetonale oni